Buonasera e benvenuti. I componenti del gruppo hanno tutti esperienza sia nell'ambito dell'insegnamento della musica, sia in quello di strumentisti esecutori del loro strumento. Ve li presento, al clarinetto Giuseppe Raffaele Barletta, violino Susanna Demetri, guitarra Simone Rozza, pianoforte Cristiano Bettini, contrapasso Stefano Gezzi, percussioni Rocco Rettano, un teso coro ad Astra sotto la guida del maestro Marco De Gasperi. Ad Astra è il naturale prolungamento del percorso che le sue componenti hanno affrontato lavorando con i più grandi musicisti del panorama mondiale, da Riccardo Scegli, Daniel Barenboi, Riccardo Muti e molti altri. A voi il film Ensambla e Ad Astra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.